Una buona serata a tutti voi e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Star News. Come ormai risaputo è Renato Schifani, il nuovo presidente della regione siciliana. Il riepilogo del risultato elettorale di domenica scorsa è in questo nostro primo servizio filmato. Il verdetto delle elezioni regionali 2022 è ormai consolidato. Il nuovo presidente della regione siciliana è Renato Schifani, 72 anni, palermitano, avvocato, in Parlamento dal 1995 al fianco di Silvio Berlusconi, noto per il lodo Schifani, cioè la disposizione di legge che prevedeva la sospensione dei processi penali per le prime cinque cariche dello Stato durante il loro mandato, norma poi ritenuta incostituzionale dalla Corte. Schifani è stato presidente del Senato e adesso raccoglie il testimone alla guida del governo della regione da Nello Musumeci, dimessosi in anticipo per correre per un seggio al Senato dove sempre ieri è stato eletto nella provincia di Catania. E sempre nel territorio catanese il presidente Schifani ha raccolto 231 mila voti, pari al 47,36%. Dietro di lui l'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, che siederà comunque all'Assemblea regionale siciliana. De Luca ha ottenuto un buon risultato, con oltre 106 mila preferenze, pari al 21,88%. A dispetto del risultato complessivo regionale, a Catania il disastro del Partito Democratico è ancora più forte, se si considera che la candidata Caterina Chinnici è stata scalzata dalla sua terza posizione dal candidato del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola. Infatti, l'esponente vicino a Giuseppe Conte ha raccolto più di 71 mila preferenze, pari al 14,71%, mentre l'eurodeputata della provincia del segretario regionale PD, Anthony Barbagallo, si è fermata ad appena 8.440 voti, pari al 14,03%. Il candidato del cosiddetto terzo polo di Calenda e Renzi ha ottenuto un magro risultato. Gaetano Armao ha ricevuto 6.400 voti, pari all'1,32%. L'outsider, Eliana Esposito, di Siciliani Liberi, si è attestata a 3.280 voti, pari allo 0,67%. Nel prossimo servizio adesso vedremo la ripartizione dei seggi e i nomi ovviamente dei deputati che siederanno all'Assemblea regionale siciliana. Assodato il risultato che riguarda la presidenza della regione emerge pure la nuova composizione dell'Assemblea regionale siciliana. 70 i deputati eletti e Catania invierà una delegazione di 13 deputati. In considerazione dei risultati ottenuti dalle liste, nelle 1.126 sezioni del territorio provinciale i 13 seggi catanesi andranno con ogni probabilità così ripartiti. 2 a Fratelli d'Italia, lista più votata in provincia di Catania con il 16,82%, 2 a Forza Italia, 14,14%, 2 alla lista De Luca Sindaco di Sicilia, 13,13%, 2 al Movimento 5 Stelle, 13,10%, 2 al Partito Democratico, 10,07%, 1 ai popolari e autonomisti, 9,99%, 1 prima l'Italia, Salvini Premier, 8,99%, e infine un seggio alla democrazia cristiana col 5,20%. Questi i nomi degli eletti, Gaetano Galvagno che ha ottenuto 13.881 voti e Letterio Dario Daidone 10.963 voti. Il paternese Galvagno, al suo secondo mandato, tra i più votati in queste elezioni, lascerà il seggio in quanto eletto nel listino del presidente Renato Schifani, ragion per cui, scorrendo la lista di Fratelli d'Italia, il seggio andrà al belpassese Giuseppe Zitelli, che ha ottenuto oltre 9.200 voti. A rappresentare Forza Italia saranno l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, con oltre 13.000 voti, e l'accese Nicola D'Agostino, non nuovo a Palazzo dei Normanni, che ha raccolto 9.500 voti. Ludovico Balsamo, con 4.648 voti, e Davide Vasta, che sfiora le 3.000 preferenze, saranno i riferimenti all'ARS della lista De Luca, sindaco di Sicilia. Iosè Marano e Nuccio Di Paola sono gli eletti del Movimento 5 Stelle, rispettivamente con 3.612 voti e 2.916 preferenze. Di Paola, candidato presidente, potrebbe però scegliere il seggio di un'altra provincia in cui è stato eletto. In questo caso entrerebbe Lidia Adorno con 1.838 voti. Per il Partito Democratico, eletti l'uscente Anthony Barbagallo, con 7.646 preferenze, e il sindaco di Militello Valdicatania, Giovanni Burtone, 5.155 voti. Barbagallo dovrebbe scegliere di andare alla Camera dove è stato eletto, lasciando così il seggio ad Ersilia Severino, che ha ottenuto 3.846 voti. Per la forza politica dell'ex presidente della regione e della provincia, Raffaele Lombardo, eletto Giuseppe Lombardo con 14.000 voti. Ma Lombardo, essendo già eletto nel listino di Schifani, cederà il seggio al secondo più votato della lista, Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, 5.326 voti per lui. Prima l'Italia, Salvini Premier, sarà rappresentata dal riconfermato record man di preferenze in provincia di Catania, Luca San Martino, che sfiora le 21.000 preferenze personali. All'Ars torna lo scudo crociato della democrazia cristiana di Totò Cuffaro, con l'ex sindaco di San Giovanni Lapunda, Andrea Messina, eletto con quasi 3.600 voti. Rimangono fuori, invece, candidati del territorio, tra questi l'uscente deputato regionale adranita Giovanni Bulla, con poco più di 1.000 voti. Sembra ad Adrano non sono riusciti a centrare l'elezione il candidato Salvo Italia di Popolari Autonomisti, che ha ricevuto oltre 2.700 voti, il candidato della lista di Claudio Fava Centopassi, Rosario Caruso, 746 voti, l'ex sindaco Pippo Ferrande, con azione, 300 voti, Agatino Scarvaieri, della lista di De Luca, 280 voti, i paternesi Ignazio Magnino, primo dei non eletti nella lista Prima l'Italia, Salvini Premier, al netto delle sue 3.000 preferenze, Martina Ardizzone, che ha ottenuto uno dei risultati più alti della lista del Movimento 5 Stelle, con 1.800 voti, e Pippo Orfanò, sui 700 voti. L'ex assessore della giunta di Santa Maria di Licodia era candidata, Maria Spalletta, 450 voti. Il sindaco di Randazzo, Francesco Gusgroi, rimane fuori, nonostante un soddisfacente risultato, ben sopra le 4.000 preferenze, come anche il sindaco di Maletto, Giuseppe De Luca, con 2.000 voti. Sentiamo adesso Giuseppe Zitelli, rieletto deputato regionale, che siederà all'Ars per i banchi di Fratelli d'Italia. Abbiamo, credo, lavorato bene, siamo stati nel territorio, siamo stati sul pezzo, e quindi la gente lo ha avvertito e ci ha premiato. Ricevere 10.000 voti non è cosa che capita tutti i giorni, e quindi sono orgoglioso del risultato che abbiamo avuto, che non è un risultato personale, ma è un risultato di un gruppo, di un gruppo di persone che ha anche uno stile nel fare la campagna elettorale. Quindi grazie davvero a tutti i miei elettori e a tutti i miei cittadini. Cercheremo di rappresentare sempre la Sicilia e nello specifico il nostro territorio. Abbiamo tanto lavoro iniziato, sia dal punto di vista legislativo, non dimentico mai i DDL che ho presentato e che abbiamo presentato, e cercheremo di farli votare nel Parlamento siciliano, e poi un'attenzione particolare per completare i lavori che sono in corso nel nostro territorio. Ecco, analizzando i voti che lei ha preso nella Catania e in provincia, in sostanza lei è presente su tutto il territorio etneo? Abbiamo avuto un risultato eccezionale, in termini soprattutto di presenza nel territorio. Siamo stati presenti in tutti e 57 comuni della provincia di Catania e anche nella città di Catania con un risultato importante. Credo che il nostro consenso parta e venga dal basso e cercheremo di onorare anche questo tipologia di impegno che abbiamo preso con il territorio. Sì, come diceva lei, siamo stati presenti, siamo stati votati in tutti e 58 paesi, che è qualcosa di straordinario. Ecco, andando sul pratico, nel concreto adesso, subito dopo l'inizio di mezzo, cosa c'è da fare nell'immediato per il territorio? Ma quando dico che dobbiamo completare il lavoro iniziato, il governo musulmanici è stato molto generoso con il nostro territorio, nello specifico penso ad esempio a Paternò, alle saline, dobbiamo essere vigili a portare a casa il risultato delle saline, così come il risultato della chiesa, una nuova costruzione di una chiesa a piano tavola, nella frazione o al villaggio del Pino. Devo dire che in tutto il territorio cercheremo di fare la nostra parte e vigilare assolutamente a 360 gradi. E adesso sentiamo anche le prime parole del rieletto deputato regionale di Fratelli d'Italia, Gaetano Galvagno di Paternò, a raccogliere la sua dichiarazione. Orazio Caruso Rieletto con oltre 14 mila voti, un successo? Sì, probabilmente frutto dell'impegno di questi cinque anni, dell'ascolto, la dedizione, le risposte che abbiamo provato a dare in questi anni assolutamente difficili. Ricordo che questi cinque anni per metà mandato sono stati segnati da una pandemia mondiale che ha completamente stravolto la vita di ognuno di noi. Ma nonostante tutto siamo riusciti a stare vicini alla gente. E questo risultato certamente ci inorgoglisce e premia tantissimo il lavoro fatto in questi anni. Io a Paternò ricordo che cinque anni fa non avevo neanche preso 1600 preferenze e oggi invece riusciamo a raccimolare, a raccogliere più di 3 mila preferenze che certamente non sono soltanto un numero ma sono un grandissimo senso di responsabilità nei confronti del territorio. C'è da dire anche un successo del partito? Oltre 75 mila preferenze in tutta la provincia di Catania? Il partito ha certamente avuto un grandissimo risultato perché sia Giorgia Meloni che Ignazio Larussa che Francesco Lobrigida e tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia sono stati sempre coerenti con quello che hanno detto. Oggi è arrivato un momento importante abbiamo un governo sia regionale che nazionale che sono dello stesso colore politico e quindi questo qui deve essere necessariamente il quinquennio delle risposte deve essere necessariamente il quinquennio della ripresa economica. Ecco, cosa c'è da fare nell'immediato? Immediatamente dobbiamo pensare a quelle che sono le difficoltà quotidiane della gente a cominciare dalla Carobollette, i rincari che vanno dal metano probabilmente se ne accorgeranno tutti quando comincerà ad arrivare l'inverno assolutamente rigido e freddo e quindi pensate un po' quanto le imprese in questo momento stiano soffrendo motivo per il quale ci vuole una grandissima sinergia tra i due governi sia regionale che nazionale per far sì di raccogliere e di portare avanti quelle che sono le istanze della Sicilia e dei siciliani anche a Roma. Ecco, le elezioni di Francesco Cencitto alla Camera del Deputato un altro esponente di Fratelli d'Italia e di Paternò come può favorire il territorio? Assolutamente una candidatura e un'elezione importante per Paternò e per tutto il comprensorio in quanto lui sarà il nostro portavoce rispetto a quelle che saranno le problematiche che a livello regionale noi non potremo eventualmente risolvere. Soddisfazione per i risultati ottenuti dal partito Fratelli d'Italia a Biancavilla arrivano dal coordinatore cittadino Angelo Durso soddisfazione anche da parte del sindaco di Biancavilla Antonio Bonano sentiamo Per Fratelli d'Italia il risultato di Biancavilla così come in ambito nazionale e regionale è a dir poco straordinario sulla scia della cavalcata trionfale in tutta Italia qui il partito è al 25% una crescita prodigiosa del 22% in 5 anni a dirlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Biancavilla Angelo Durso questa affermazione è figlia della coerenza della nostra leader Giorgia Meloni e sul piano locale deve il proprio successo alla straordinaria capacità amministrativa degli amministratori di Fratelli d'Italia di Biancavilla sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e consiglieri comunali di Fratelli d'Italia dice Durso oltre un decennio fa abbiamo iniziato un percorso assieme a Giorgia Meloni che guidava il movimento giovanile ora con una vittoria che inscrive il suo nome nei libri di storia la nostra leader si appresta a governare l'Italia con il massimo della fierezza posso affermare che l'esploat di Fratelli d'Italia in Sicilia e in provincia di Catania trova il suo cardine proprio nella città di Biancavilla le percentuali di Fratelli d'Italia ottenute nella nostra città 25,03% infatti sono le più alte della regione 14,90% e di tutta la provincia etnea 16,82% da coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno deciso di sostenerci i militanti e la classe dirigente di Fratelli d'Italia ha concluso Angelo Durso e a parlare è anche il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno che in una nota scrive dopo la vittoria di Giorgia Meloni guardo i risultati che Fratelli d'Italia e gli altri partiti della coalizione hanno ottenuto a Biancavilla ed esulto per ciò che vedo con il 25% Fratelli d'Italia ha una percentuale superiore al dato siciliano e provinciale e la coalizione sfiora il 60% a chiamarlo per nome questo è un trionfo che preme il lavoro di tutti portato a termine in questi anni a partire dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Angelo Durso come una sinfonia perfetta la campagna elettorale nazionale regionale offre a Fratelli d'Italia un parterre di eletti assai affidabile per il futuro dell'Italia e della amata terra siciliana dice Bonanno mi congratulo con il neo senatore Salvo Pogliese al quale rinnovo la mia stima personale ho la certezza che dallo scranno di Palazzo Madama saprà dare un contributo importante al nostro territorio per l'approdo al Parlamento nazionale porgo i complimenti e auguro buon lavoro anche all'amico Maglio Messina sempre vicino alla nostra città e all'ex presidente Nello Musumeci anche egli vicino a Biancavilla con grande lealtà alla regione con la riconferma di Galbagno e Zitelli e il nuovo ingresso di Daedone complimenti a tutti per il meritato successo consegna alla provincia Ettenea una squadra di grande prestigio che riempie di orgoglio Fratelli d'Italia conclude così il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno Sull'esito delle elezioni regionali si registra l'intervento di Angelo Villar ex segretario provinciale del Partito Democratico il quale nell'imminenza delle elezioni ha lasciato il partito per forti contrasti con il segretario regionale dei democratici Anthony Barbagallo approdando successivamente alla corte di Cateno De Luca candidandosi in una delle liste a sostegno dell'ex sindaco di Messina Villarino è stato eletto ma ha ringraziato coloro che l'hanno votato dice voglio ringraziare i quasi 5 mila elettori per avere espresso con un consenso alla mia persona questo risultato mi riempie d'orgoglio e sottolinea come il tentativo di macchiare la mia immagine la mia storia, la vostra storia da parte del segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo con un atto di killeraggio politico mai verificatosi in precedenza nella nostra comunità non si è andato a segno dice ancora Villari è stata giusta la scelta di candidarmi in un contenitore civico che porta al territorio e che mette al centro l'obiettivo politico di valorizzare le esperienze civiche e amministrative dei territori e di affrontare prima di tutto i problemi della Sicilia valorizzandone le specificità continuerò la battaglia per affermare questi principi ascoltando le istanze dei cittadini raccogliendone il malessere e combattendo con loro per cercare di dare risposte a queste esigenze parliamo adesso abbiamo parlato delle elezioni regionali ci spostiamo parliamo di quelle nazionali le elezioni nazionali il paternese Francesco Ciancitto ex consigliere comunale e assessore durante la legislatura del sindaco Pippo Failla Paternò è stato eletto alla Camera dei Deputati fra le fila dei Fratelli d'Italia sentiamo una sua breve dichiarazione raccolta ieri sono particolarmente emozionato non solo per il mio risultato per cui ringrazio tutti gli elettori del collegio ma ringrazio anche Giorgia Meloni e Ignazio Larussa ma emozionato anche perché per la destra italiana e per il centro-destra in generale è una giornata storica una giornata storica perché si ritorna a un governo scelto dal popolo dalla gente una coalizione forte una maggioranza numericamente valida quindi si potrà benissimo e tranquillamente governare il paese cosa ha da dire ai suoi elettori? il mio elettorio è da dire che porterò le istanze del territorio dei professionisti, degli imprenditori degli artigiani, degli impiegati statali dei docenti a Roma per far sì che questo territorio questo immenso collegio costituito da 34 comuni possa continuare a crescere ed avere delle risposte concrete e migliorare la qualità della vita anche la città di Bronte avrà il suo deputato regionale eletto fra le file del partito Azione Italia Viva di Calenda e Renzi si tratta di Giuseppe Castiglione politico navigato abbiamo raccolto anche una sua dichiarazione grazie a una grande manifestazione di affetto tanti amici che hanno voluto premiare questo grande risultato la lista Calenda di Azione Italia Viva ha raggiunto un risultato straordinario a soli 20 giorni dal Varo abbiamo fatto un risultato che oggi addirittura la pone sul pari livello di forze politiche consolidate come Forza Italia siamo molto contenti un grande risultato in Sicilia due eletti più un senatore due alla Camera dei Deputati saremo quel polo moderno quel polo riformista quel polo che vuole affrontare i temi con grande serietà l'Italia sul serio la Sicilia sul serio noi facciamo gli auguri al leader di Fratelli d'Italia che ha guidato ha saputo utilizzare bene il periodo di opposizione al governo Draghi noi siamo convinti che il paese non ha bisogno di una guida che in Europa non abbia una collocazione precisa però questo è un tema da campagna elettorale noi gli facciamo gli auguri in bocca al lupo pifiamo per l'Italia certamente un'Italia che guarda all'interesse dei più deboli a quell'Italia che invece vuole stare in Europa vuole sul versante internazionale non tergiversare quindi avere una collocazione molto precisa quindi un grazie a tutti i direttori a tutti coloro che hanno creduto nel progetto a tutti coloro che hanno pensato che l'Italia non può essere stritolata o a destra o a sinistra ha rifiutato questa logica però il populismo ha prevalso e noi siamo convinti che invece arriverà la stagione del buon governo bene chiudiamo abbiamo così chiuso questa ampissima pagina dedicata alle elezioni e purtroppo continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca nera e dei due morti il bilancio di un incidente stradale verificato se la scorsa notte intorno alle 2 nel quartiere Librino a Catania si tratta di Fabrizio Storniolo e Carmelo Rapicavoli di 29-20 anni i due viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata la Polizia Municipale che si è occupata dei vilievi per ricostruire la dinamica sta cercando di capire se si è trattato di un incidente autonomo o se si è stato coinvolto un altro mezzo le indagini attualmente sono in corso le salme dei due giovani sono state sottoposte a sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria scomparsa la piccola Lucia Pizzanti di 5 anni di paterno il padre Francesco Pizzati ha lanciato l'allarme la notizia si è diffusa rapidamente sul web per via di un disperato appello lanciato per mezzo di un post che il padre e i parenti della piccola hanno fatto girare su Facebook la madre con il quale il padre di Giulia ha avuto una separazione poco pacifica è andata a prendere la bambina alle 12 di venerdì 23 settembre per poi far ritorno doveva far ritorno in teoria a casa di lei a paterno ma dalle 19 dello stesso giorno non si hanno più notizie di entrambe da quel momento in poi la madre risulterebbe irraggiungibile sembrerebbe che abbia portato la via la figlia facendo perdere ogni traccia Giulia infatti doveva far ritorno a casa sua come abbiamo detto a Vaccarizzo alle 20 del 25 settembre così come stabilito dal giudice in fase di affidamento con sentenza di separazione per il quale l'uomo ha ottenuto l'affido congiunto ma così alla fine non è stato come confermato dalle forze dell'ordine la denuncia è stata presentata dalla procura per sottrazione di minore a dieci mesi dal suo insediamento il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha annunciato che azzererà la giunta comunale per domani mattina è prevista una riunione di Mancuso con la sua giunta entro 48 ore il primo cittadino Adranito dovrebbe procedere alla nomina della nuova giunta il sindaco ha anche annunciato che della sua nuova squadra farà parte il professor Salvo Italia candidato all'assemblea regionale siciliana per la lista autonomisti e popolari inaugurata oggi nei locali di Villa delle Favare a Biancavilla la mostra dedicata alla pop artist del biancavillese Salvo Ardizione si potrà visitarla fino al 1 ottobre vediamo il servizio inaugurata questo pomeriggio all'interno della Villa delle Favare la mostra di Salvo Ardizione un biancavillese che da anni abita a Roma ma che non dimentica la città natale infatti un artista che nei suoi quadri ritrae i personaggi dello sport e anche dello spettacolo la mostra è visitabile fino al primo di ottobre e questo pomeriggio all'inaugurazione a taglio del nastro erano presenti il sindaco Antonio Bonano oltre naturalmente a Salvo Ardizione e l'assessore Enza Candarella nonché giovani sportivi e non dopo dieci anni ritorno a Biancavilla festeggio i miei dieci anni di attività artistica quindi mi piaceva ritornare qua e con l'invito del sindaco Antonio Bonanno abbiamo creato di nuovo questa mostra pop art dello sport soprattutto e con qualche diciamo quadro speciale su Biancavilla e sulla Sicilia ecco quali sono le caratteristiche della sua arte? allora la mia si chiama pop art che io ho aggiunto naif perché è molto semplice molto anche iconica facile da vedere sono personaggi dello sport personaggi dello spettacolo dove io do un'importanza perché o li ho incontrati o perché mi piacciono mi piace seguire la musica per esempio Mina potete notare che sono tutti grigi perché io penso che il personaggio prima di diventare famoso è nulla è semplice una persona diciamo del popolo e poi diventa appunto famoso con i miei colori dietro che metto ecco Savo Ardizzone cosa recepisce dagli artisti o dagli sportivi che incontra? lavorando al Cogne Sport e Salute io incontro tutti questi personaggi quasi ogni giorno quindi già è bello vedere degli atleti che vincono quindi per me già sono delle emozioni il primo che ho dipinto era Sara Simeoni e quando l'ho incontrata sono stati veramente una vera emozione quindi incontrare un atleta che io ho sempre sentito negli anni 80 e poi l'ho dipinto e poi l'ho incontrata dal vivo è stata una forte emozione ecco quindi che traspare anche nel quadro ecco c'è uno sportivo che è come dire la più impressionata impressionata Bebevio perché l'ho incontrata in questi anni mi è venuto distinto fare un dipinto su di lei per quello che è straordinario diciamo il fan nella sua vita nel sociale perché lei c'è anche un'associazione sportiva dove raccoglie fondi appunto per bambini ragazzi che hanno problematiche appunto di disabilità ecco però con lo sport si vince la mostra chi è indirizzata a un pubblico a 360 gradi oppure c'è qualcuno in particolare a qualche fascia d'età no è per tutti perché come dicevo prima la mia pop art è naif quindi se conoscono il personaggio è facile da individuare da capire anche attraverso i colori che io aggiungo che sono la palla dal tennis le strisce le decorazioni i record che fanno loro quindi tutto descritto nei minimi particolari è facile perché visitare la mostra di Salvo a Dizzone perché c'è tanta Biancavilla dentro è un biancavillese che ancora diciamo si dà da fare per essere presente ecco far capire che bisogna andare avanti e credere nei propri sogni siamo felicissimi di ospitare Salvo che finalmente ritorna a casa dal 2014 non tornava a Biancavilla quindi ho avuto il piacere e l'onore di organizzare la sua mostra sarà sicuramente una manifestazione seguita da tanti inviteremo le scuole all'esposizione e ci sarà un modo anche per i cittadini di poter godere delle opere del nostro maestro con questo servizio si chiude questa edizione di Star Giuse vi ringrazio ovviamente della vostra attenzione l'appuntamento è rimandato più tardi buona serata a tutti voi grazie a tutti Grazie a tutti.